Il processo per i fatti di piazza San Carlo Torino costati la vita all'ossolana Erika Pioletti, il PM ha chiesto 9 condanne. Secondo il sindaco a Verbania mancano almeno 6 medici di famiglia, Marchionini ha scritto all'azienda sanitaria. Crollati quest'estate gli ingressi al giardino Alpina di Stresa, circa il 90% dei visitatori saliva in funivia. Amici dell'oncologia raggiunto il budget per l'acquisto del colonoscopio pediatrico, oltre 200 persone all'annuale cena Villa Rusconi Clerici. Orta in arte al Sacro Monte domenica 3 ottobre con lo storico Pietro Marani e con Vittorio Sgarbi. Basket bis servito per la Paffoni che dopo aver battuto Borgomanero replica anche contro la Mami. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, in apertura di giornale gli ultimi aggiornamenti sul processo per i fatti di piazza San Carlo a Torino, in seguito ai quali, lo ricorderete, perse la vita l'ossolana Erika Pioletti. Nove condanne a pene tra i due anni e tre mesi e un anno e quattro mesi sono state chieste dal PM Vincenzo Pacileo al processo ripreso in corte d'assise per i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, quando, durante la proiezione su maxischermo della finale Champions-Juve-Real, ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e in seguito la morte di due donne e un uomo. Tra queste, la 38enne di Domodossola Erika Pioletti, ispirata dopo 12 giorni di coma. Tra gli imputati di disastro e omicidio colposo figurano funzionari del Comune e della Questura, oltre al vice prefetto Roberto Dosio, per il quale la richiesta è un anno e dieci mesi. Secondo il PM, ci furono lacune nell'organizzazione e nella gestione dell'evento. Il PM ha proposto due anni e tre mesi per Michele Mollo, dirigente della Questura, poi un anno e dieci mesi per Paolo Lubbia, dirigente del Comune, Marco Sgarbi, dirigente della Polizia Municipale, Alberto Bonzano, dirigente della Questura, Dario Longhin, funzionario dei Vigili del Fuoco, Franco Negroni e Pasquale Piro, componente della Commissione Provinciale di Vigilanza. Tutti, secondo il PM, hanno avuto una parte di responsabilità come rotelle di un ingranaggio cooperativo. Il magistrato, nell'esaminare le posizioni di alcuni imputati, ha anche richiamato i principi giurisprudenziali contenuti nelle sentenze sull'incendio del Cinema Statuto del 13 febbraio 1983, costato la vita a 64 persone. Quanto all'evento di Piazza San Carlo, ha osservato che il vero organizzatore è stato la città di Torino nei suoi vertici politici. La sindaca, Chiara Pendino, è già stata condannata in primo grado, con rito abbreviato a 18 mesi. Si è dimessa Desiree Milan la consigliera di Arona che nell'ultima seduta consigliare ha bestemmiato durante la videoconferenza il comunicato del sindaco Federico Monti recita sulla base di quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale del 13 settembre ho ricevuto in data odierna le opportune spiegazioni e le relative scuse da parte della consigliera la quale mi ha comunicato altresì la volontà di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Il sindaco di Verbagna ha scritto all'ASL per evidenziare la carenza di medici di famiglia in città, chiede un intervento dell'azienda sanitaria, ne servirebbero, dice Marchionini, almeno sei. A Verbagna mancano medici di famiglia. A evidenziare il problema è il sindaco Silvia Marchionini, che ha scritto una lettera ai vertici dell'ASL per chiedere un intervento. Marchionini spiega di aver ricevuto segnalazioni da tanti cittadini che hanno avuto difficoltà nell'individuazione e scelta di un medico di base sul territorio comunale e alcuni non ne avrebbero ancora trovato uno. Negli ultimi tempi, scrive la prima cittadina, numerosi medici di famiglia hanno raggiunto l'età pensionabile. Per l'effetto i cittadini sono stati costretti a individuare nuovi medici di base riscontrando non poche difficoltà. Infatti alcuni di essi risultano ad oggi privi di medico curante, istante la limitata disponibilità di medici di base sul territorio comunale. Per questo il sindaco chiede l'intervento dell'azienda sanitaria. La criticità riscontrata sul territorio di Verbagna nella reperibilità e scelta del medico di base, prosegue la lettera, rende necessaria, soprattutto in un momento storico come quello post-pandemico attuale, la presente richiesta, volta ad ottenere un vostro tempestivo intervento, che consenta di risolvere il problema legato alla carenza dei medici di base sul territorio comunale, garantendo per l'effetto ai cittadini un pieno ed effettivo diritto alla salute. Per rispondere alle esigenze della popolazione per la città di Verbagna mancherebbero almeno sei medici di famiglia. Sono invariati nelle ultime 24 ore in Piemonte i recovery in terapia intensiva per Covid, che restano 24, mentre negli altri reparti i pazienti sono 194, due in meno rispetto a ieri. L'unità di crisi regionale registra anche un decesso non nei territori del VCO e del Novarese e 263 nuovi positivi, l'1.2% dei 22.371 tamponi eseguiti. I guariti infine sono 175 in più rispetto a ieri. L'alternativa per Casale ha presentato un ordine del giorno che vorrebbe il Green Pass per tutti i partecipanti al Consiglio Comunale. Green Pass per accedere al Consiglio Comunale di Casale Cortecerro. Per tutti, sindaco e giunta, consiglieri di maggioranza e minoranza, addetti del comune, giornalisti ed eventuale pubblico in sala. È la richiesta che arriva dall'alternativa per Casale che ha presentato un ordine del giorno su questo tema da discutere e mettere in votazione. L'auspicio, spiegano i consiglieri Fabrizia Maggiola, Cinzia Co, Benedetto Madeo e Domenico Crasà, è che il nostro documento possa essere votato da tutti e dunque approvato all'unanimità. Ci sembra un atto dovuto che ha dietro di sé diverse motivazioni. La più importante ovviamente è sanitaria perché è giusto garantire la massima sicurezza per tutti finché questa battaglia contro il coronavirus non sarà definitivamente vinta e peraltro per non verificare gli immensi e ripetuti sacrifici che sono stati fatti negli ultimi due anni dalla popolazione. Poi crediamo sia doveroso dare l'esempio, visto che il Green Pass è richiesto per andare al ristorante, in palestra, a teatro o in piscina. E' un'assunzione di responsabilità da parte di chi ha doveri istituzionali. Un messaggio forte e chiaro che vogliamo arrivi a tutti, concludono gli esponenti dell'alternativa per a Casale. Ed ora le elezioni amministrative domesi. Continua la presentazione delle liste. Conosciamo nomi e volti che compongono quella di Città per Tutti che appoggia il candidato sindaco Antonio Ciurleo. Città per Tutti, il nome della lista che alle amministrative del 3-4 ottobre a Domodossola appoggia Antonio Ciurleo sindaco. Le persone al centro di tutto, il motto. La compagine si è presentata l'altro giorno. Un locale del quartiere della Cappuccina ha fatto da cornice. Perché, è stato sottolineato, Domodossola non è solo il centro, ma anche le periferie con i suoi quartieri. Città per Tutti si professa essere l'unica lista civica del parterre elettorale domese. Il nostro programma, dicono, è incentrato sulle persone e per le persone. Lo slogan scelto per contraddistinguere la campagna elettorale per una domo più... 16 candidati, 9 uomini e 7 donne. Tra questi anche Giuseppe Maglio, che con i suoi 89 anni, con ogni probabilità, si aggiudicherà il primato del candidato più anziano della tornata elettorale. La composizione della lista è eterogenea. Rappresenta uno spaccato reale della vita di tutti noi, è stato detto durante la presentazione alla stampa. Ad animarla sono un medico, un ex dirigente ASL, pensionati, insegnanti, un disoccupato, una giovane diversamente abile. Si tratta di facce nuove della vita amministrativa cittadina, con un'unica eccezione, Luca Coppa, consigliere di minoranza uscente nelle fila del Movimento 5 Stelle. Ancora, compongono la lista Germano Margaroli, Deborah Orsi, Saggia Nucera, Antonio Cardone, Domenico Buget, Elisabetta Sestito, Alessio Capocchia, Claudio Barna, Giuseppe Santopolo, Augusto Carburo, Giovanna Malacrida, Giovanna Caporali, Anna Campotaro, Barbara Visca. Tempo di bilanci di stagione per il Giardino Alpinia, probabilmente una delle realtà turistiche locali più penalizzate dall'incidente della funivia del Mottarone. La stagione turistica è stata molto compromessa, nella prima parte dal Covid, dalle istituzioni Covid, nella seconda parte purtroppo dall'evento che c'è stato quel 23 maggio scorso. Già perché la quasi totalità dei frequentatori del Giardino Botanico Alpinia di Stresa, circa il 90%, era solito salire in funivia. Stagione Giardino Alpinia ha fatto circa 5.000 ingressi, su un 2019 di circa 15.000, quindi la riduzione è stata molto importante. Ora però si deve necessariamente guardare al futuro. A breve la partenza dei lavori per il completamento della sistemazione dello stabile posto all'ingresso del parco, anche con il contributo di Fondazione Comunitaria del VCO. Proprio per fornire al turista qualche servizio aggiuntivo, qualche centro visite, un bar, un piccolo luogo anche dove fermarsi, comprare una bottiglietta d'acqua. I lavori incominceranno nel mese di ottobre, dureranno circa un mese, un mese e mezzo, quindi dovremmo trovarci pronti per la stagione prossima. Intanto il giardino resta aperto fino al 9 di ottobre. Si raggiunge da Stresa salendo a Gignese e seguendo poi le indicazioni per la località alpino. E dopo la pausa estiva torna l'appuntamento del giovedì con Donare per Crescere, in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO, che oggi dedichiamo all'annuale cena benefica degli amici dell'oncologia e a un nuovo traguardo raggiunto, grazie a una bella sinergia tra diversi soggetti. Obiettivo con lo scoppio pediatrico raggiunto, sono stati raccolti i 10.000 euro che mancavano, grazie al ricavato dell'annuale cena benefica degli amici dell'oncologia, che si è tenuta lo scorso venerdì a Villa Rusconi Clerici a Verbagna Pallanza, che si è sommato ai 4.000 euro già donati all'associazione, da Marco Zonca e dai pescatori della Riva, raccolti ad agosto con il weekend di Sagra del Pesce. Più di 200 persone hanno risposto presente venerdì scorso alla serata benefica, in cucina lo chef stellato Max Celeste, in sala i sommelier AIS e i volontari degli amici dell'oncologia. È stata una serata riuscita, tanti hanno risposto bene al nostro invito e siamo molto contenti. I fondi, dicevamo, serviranno per l'acquisto di un colonoscopio pediatrico del costo di 30.000 euro. 10.000 sono stati offerti da Rotary, Fondazione Comunitaria e VCO metterà gli altri 10.000. È un particolare tipo di colonoscopio, uno strumento diagnostico estremamente avanzato, che non serve solo per i bambini, per i quali peraltro può essere usato, ma anche per persone con problematiche o di patologia o di trattamenti, come stenosi del canale intestinale dovute a malattie oncologiche, quindi pazienti adulti che però non riescono ad effettuare gli esami endoscopici con gli strumenti normali, mentre questi sono più raffinati e permettono di fare diagnostiche avanzate anche in situazioni estremamente delicate. Perché Rotary sostiene questo progetto? Perché siamo del territorio e questo è un problema che c'è. Lo risolviamo con una nuova attrezzatura, uno strumento trasportabile, quindi utilizzabile sia in sede pediatrica che anche in sede adulta. È un passo importante perché mette all'avanguardia in questo settore le nostre strutture sanitarie. Come Fondazione Comunitaria sostiene questo progetto? Sì, allora la Fondazione ha proposto agli amici dell'oncologia che hanno sottoposto questo interessante progetto di organizzare questa raccolta fondi che ha visto tantissima generosità di persone fisiche, di club di servizio e al raggiungimento dell'obiettivo di 20.000 euro la Fondazione aggiungerà una premialità di 10.000 euro. La Fondazione è sempre vicina a queste realtà? Sì, e tra l'altro vorrei spendere una parola per sottolineare questo. Nella fase del Covid, quando la Fondazione Comunitaria è stato il salvadanaio che ha veramente ospitato tantissima generosità da parte degli abitanti di questo territorio, è grazie a tantissime associazioni che la Fondazione ha potuto fare gli acquisti di tutte le cose che attraverso quei quadrini raccolti sono state acquistate. Una corsa ad altri tempi, quella andata in scena sulle sponde del Lago Maggiore con la Rona Stresa Arona. È stata una giornata di atmosfere ed altri tempi e di magia, quella della terza rievocazione storica della Rona Stresa Arona. La corsa automobilistica più antica d'Italia è tornata l'11 e 12 settembre scorsi. Le meravigliose vetture d'epoca, costruite fino al 1925, con deroga al 1930 per quelle da corsa, hanno ripercorso in due giorni il tragitto originario del 1897, lungo le sponde del Lago Maggiore. 25 mezzi che hanno partecipato da una lancia 12 HP del 1908 dell'architetto Corrado Lopresto, il più importante collezionista italiano, scortata da due Damigelle Teta del 1914. Un esemplare di rara bellezza, oggi rinominata Alfa grazie al sistema delle lettere greche, ha un motore tipo 51 a 4 cilindri di 2543cc, il telaio basso, la trasmissione a cardano e il cambio a quattro marce che le permettono di raggiungere la velocità di 100 km orari. Presente anche una Renault Watturette del 1900, caratterizzata da un motore numero 1230, monocilindrico, quattro tempi, da 3,5 cavalli, auto da corsa appartenuta a lui, Renault, e costruita appositamente per essere esibita alle competizioni dell'epoca. Non da meno la presenza della Detroit elettrica del 1924, caratterizzata dall'avvio immediato senza manovella, con un'autonomia di carica di circa 100 km, priva di fumo e odore di benzina. La manifestazione è partita dalla piazza del Popolo ad Arona per arrivare a Stresa con una sfirata nel centro della Perla del Lago Maggiore nel pomeriggio. È stata patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Arona, Comune di Stresa, di Belgirate, di Meina e di Lesa. Doppio appuntamento con l'arte domenica 3 ottobre al Sacromonte di Orta San Giulio. Alle 17 lo storico dell'arte Pietro Marani guiderà il pubblico in una visita al Cenacolo Vinciano. Alle 21 Vittorio Sgarbi, grande esperto di Raffaello, commenterà 10 capolavori assoluti. L'evento è stato presentato nei giorni scorsi, costo di 30 euro a persona per ciascun appuntamento, 50 per entrambi. Orta in Arte, ecco un progetto che oltre a far riscoprire, a valorizzare il territorio, fa anche solidarietà, Sindaco. Certo, la voglia di sempre guardare agli altri e rispettare tutte le necessità del territorio è il motore che ci ha guidati insieme con Rotary per questo grande spettacolo. Orta in Arte, che non vuol dire soltanto arte e cultura, ma vuol dire anche solidarietà. In cosa consiste poi questo progetto? Si è arrivati all'idea di creare una specie di festival di arte, a Orta, che non si era mai fatto. Quest'anno è il primo appuntamento, speriamo ci sia annualmente, ogni anno, la ripetizione di questi eventi. Ci sarà l'incontro di due eccellenze, direi, di Pietro Marani, che è il massimo esperto di Leonardo in Italia, e di Vittorio Sgarbi, che non ha bisogno di presentazioni, che commenteranno le opere, il primo dell'ultima cena di Leonardo, e il secondo di Raffaello, proiettate in alta definizione su fotografie di un nostro socio, che è Vincenzo Merarchi, di Fattore Arte, che consentirà una visione veramente eccezionale. Servirà per raccogliere i fondi da destinare a un progetto pluriennale organizzato da Rotary Calaborto San Giulio, in particolare il progetto è la Pet Therapy, a sostegno degli anziani delle RSA, e a partire da quest'anno anche dei bambini e dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico. Una nuova eccezionale scoperta coinvolge il territorio del Parco Nazionale della Val Grande. Nei giorni scorsi è stata infatti osservata per la prima volta nell'area protetta una boiera Irene, una grande libellula di colore verde grigiastro. Il nome comune, Dragone Spettro, le è stato dato per la sua colorazione mimetica, ma anche per le sue abitudini crepuscolari che la rendono una libellula difficile da osservare. La specie è presente in Europa occidentale e in Africa magrebina, mentre in Italia è segnalata nelle regioni tirreniche, in Piemonte, in Lombardia e nell'Emilia-Romagna. Andrea Amosini, ricercatore della Val Grande, società cooperativa, ha rinvenuto la specie in due diverse aree, il torrente San Bernardino e un ruscello sopra l'abitato di Colloro. Quest'ultima osservazione ricade nei confini del Parco Nazionale della Val Grande, nel suo versante ossolano, che per molte specie di insetti si sta sempre più rivelando quale vero e proprio scrigno di biodiversità. Questa importante osservazione è anche la prima per tutto il territorio provinciale del verbano Cusiossola. Le popolazioni conosciute, più vicine di questo tipo di libellula, infatti, sono state segnalate in provincia di Novara, per la precisione, nel territorio del Parco Naturale del Ticino. Ed ora il basket in apertura di pagina sportiva, con la nuova vittoria della Paffoni, stavolta contro la Mami. La Paffoni si conquista la finale che giocherà sabato alla Pallabattisti di Everbagna alle 20.30, battendo nettamente nel secondo derby consecutivo la Mami Oleggio, 83 a 58, a Everbagna, con il solito grande, anzi grandissimo protagonista, Jacopo Balanzoni, 29 punti, 11 rimbalzi, 38 di valutazione per un'alta prestazione monumentale da parte del pivot Varesino. Una partita in cui la Paffoni ha controllato gli avversari e oltre che della grande prestazione di Balanzoni si è giovata della super partita del suo playmaker Alessandro Piazza che ha sciorinato davvero grandi giocate in attacco, 14 punti per lui, assist per i compagni, risposte positive anche da un Birindelli decisamente in crescita a livello fisico da Planezio presente quanto contava. Invece un po' sottotono Frank Busciati che è stato più assist man rispetto a finalizzatore rispetto alle precedenti partite. Oleggio ha provato a tenere botta nel corso del primo quarto con un riva decisamente ispirato sotto il tabellone, poi però offensivamente la Mami ha trovato enormi difficoltà a trovare la via del canestro, meno 12 a metà partita nel terzo quarto, due super schiacciati di Balanzoni hanno definitivamente scavato il assolco è consentito alla Pafoni di prendere un vantaggio assolutamente tranquillo che ha gestito con maestria nel corso dell'ultimo quarto, l'ultimo quarto in cui entrambi gli allenatori hanno dato ampio spazio ai giovani. Dunque la Pafoni nuovamente in casa sabato per la finalissima lascia passare per la final eight di Supercoppa che si giocherà nel weekend del 25, 26, 27 settembre. Aliniano Sabbia d'Oro Telecronaca della partita tra Pafoni e Mami in onda questa sera su VCO Azzurra TV alle ore 20.35 e ancora domani venerdì alle 13.30 e alle 17.30 e ora parliamo di pallavolo e di una bella iniziativa in programma nella giornata di sabato a Verbagna per avvicinare giovani e giovanissimi al mondo del volley. La stagione 21-22 non può che ripartire dalle piccole dai piccoli dai giovani abbiamo sofferto tra virgolette troppo in questi due anni per la pandemia e il rischio è che davvero perdiamo il ricambio a livello di squadre e di giovani che praticano la pallavolo. Grazie alla collaborazione con Alziora organizzeremo sabato prossimo quindi 18 settembre nelle piazze di Intra la presentazione del nostro magnifico sport proprio per permettere ai giovani alle più piccole e ai più piccoli di avvicinarsi allo sport della pallavolo di conoscere il bagger la ricezione l'attacco la difesa conoscere le due società Alziora e Rosalziora e dopodiché raccogliere le informazioni per poter praticare lo sport nelle nostre palestre in totale sicurezza come deve essere in questo periodo. Abbiamo deciso di fare questo percorso cittadino in tre piazze di Verbagna la piazza San Vittore con partenza davanti alla chiesa piazza Ranzoni e piazza Castello daremo dei gadget a questi ragazzi che sono sorprese e un come si chiama un permesso per venire una settimana sia a Rosalziora che a Alziora a provare le allenamenti per giocare con noi troverete le ragazze al liceo Buonaventura Cavalieri di Verbagna mentre i ragazzi saranno accolti alle Ranzoni di Trobaso. Ovviamente l'attività pallavolistica non solo rivolta alle piccole siamo partiti a settembre con tutte le squadre del femminile e del maschile quindi dalla under 12 fino alla serie C Rosalziora quest'anno ha la novità della serie D che servirà per le ragazze per crescere ancora di più rispetto alla 16 regionale d'eccellenza a cui partecipiamo chi non può venire sabato per impegni a trovarci nelle varie piazze ci trova tutto l'anno come ha detto Monica a Pallanza Rosalziora a Trobaso Alziora tutti i giorni siamo qui dalle 5 in poi fino a tarda sera per cui non fatevi problemi ad avvicinarsi. Il volley dunque scende in piazza per accogliere per stimolare i giovani l'appuntamento quindi è sabato a Verbagna per tutti i ragazzi e i bambini interessati e così chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale vcoazzurratv.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi. grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri